buongiorno good morning milano quanto tempo è che aspettavo di dirlo tanto siamo tornati siamo tornati siamo tornati allora qui con voi di nuovo in diretta su crystal radio alle 7.04 di oggi 11 settembre 2023 il mio nuovo compagno di viaggio lorenzo masieri ciao a tutti good morning ragazzi il veterano fabio raffi buongiorno buongiorno di nuovo che bello poter dire di nuovo good morning milano che bello che bello che bello allora come qualcuno di voi sanno noi saremo qui tutta la mattina anzi c'è una novità l'anno scorso noi facciamo dalle 7 alle 8 quest'anno dalle 7 alle 9 grazie al tuo arrivo abbiamo un'ora in più io la seconda ora me ne vado ti lascio tutto a te va bene ok ok va bene va bene però posso arrivare dopo questo punto adesso chiediamo al grande direttore di crystal radio se si può va bene chiediamo a lui un saluto allora tutti gli ascoltatori di crystal radio un saluto anche gli ascoltatori di milano all news che ci stanno vedendo in questo momento in diretta su milano all news e appunto ci state ascoltando in diretta su crystal radio piccolo ripassino vediamo lorenzo se tu insomma hai già fatto la stagione qui su crystal radio alla sera giusto ho notato la differenza baritonale della mia voce dalle 7 del mattino con quella delle 18 di sera sì c'è diversità però 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 bene insomma siamo a favore della diversità siamo a favore della baritonalità delle nostre voci ma soprattutto vediamo se sai ecco questo è il primo test come si fa ad ascoltare crystal radio crystal radio si può ascoltare in fm 96.2 si può ascoltare sul sito sull'app e anche collegandosi appunto su milano all news per vederci anche in video le nostre belle facce delle 7 del mattino infatti siamo ancora un po' in fase di costruzione del programma quindi se sbagliamo ci corrigerete come no citazione del papa papa giovanni paolo secondo quando si affacciò la finestra e disse sai che faccio citazioni basse io no cioè di miei simili capito e quindi no dicevo appunto se sbaglieremo qualcosa ci correggerete in queste in queste mattinate ma insomma stiamo cercando di costruire una bella trasmissione tant'è che oggi insomma abbiamo già il nostro primo ospite che possiamo già dirlo si si diciamo Filippo Poletti posso dire una cosa a me sta rottura di male dell'hype non vi dico nulla finché no ma va diciamo cose poi Poletti adesso ci sta ascoltando dice ma io non ci vado più da quelli lì sai che figura ci facciamo però fa niente Filippo ciao ci vediamo fra poco chi è Filippo Poletti? Filippo Poletti è un influencer importantissimo su LinkedIn da milioni di post di ah io non sono molto social attraverso con LinkedIn ah con LinkedIn ok tu sei più su OnlyFan no non diciamo queste cose che poi giustamente l'ascoltatore mi cerca con questa voce giusto l'ascoltatrice magari con questa voce no lui su LinkedIn no è uno che parla di lavoro nel mondo del lavoro e tutto quindi oggi appunto visto che oggi insomma è un po' il giorno della ripartenza per molti alcuni insomma ha già una settimana che ripartano parleremo di ripartenza ripartenza delle scuole del mondo del lavoro è anche nostra e allora 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 prima di partire un po' di musica ovviamente su Crystal Radio ricordiamo però anche il 331 7853555 che è il punto il numero di cellulare si dice qua cellulare numero si smartphone numero di whatsapp a cui potete scriverci sono solo le 7 e 11 minuti così fate questa notte hai dormito o no io no non ho dormito niente neanche io neanche io neanche io ho dormito un mal di testa pazzesco un'ansia da prima volta come tutte le volte che si parte con la trasmissione non sono riuscito a dormire neanche io io ho una vita che non mi svegliavo a quest'ora quindi quindi niente c'è da abituarsi c'è da abituarsi ma ci abitueremo posso dire una piccola cosa su questa perché c'è un passaggio in cui io lo dico non penso ci siano problemi Riccardo Danotti dice una foto al mare una carnevale uno con lo stronzo che ti ha fatto male e hanno fatto questo meme con Calenda si partiamo già subito sul mio forte ok io di quello di Calenda è chiaramente una foto con lo stronzo che ti ha fatto male era con Renzi mi ha fatto molto ridere questa cosa ecco questa è la presentazione di Lorenzo Masieri potete scrivere al 331 785 355 per ogni tipo di insulto tanto lo accettiamo bene questa è la sua comicità lui è l'esperto di politica di Milano Gnusa ha seguito diciamo una carriera alle spalle per ventre mesi per ventre mesi ha seguito il nostro telegiornale quindi insomma ha fatto delle grandi cose e poi appunto adesso è la mia spalla qui a Good Morning Milano dicevamo appunto che il 331 78535 515 a cui ci stanno scrivendo e già ci iscrivono Gnusa Alberto dice un saluto a Fabio al suo compagno radiofonico per la nuova avventura mattutina grazie mille grazie mille grazie Alberto grazie mille davvero perché insomma ne abbiamo bisogno abbiamo bisogno di un po' una pacca sulla schiena anche un calcio nel cuo insomma per farci andare un po' avanti per darci la forza per svegliarci così sempre presto la mattina e insomma non è facile chiediamo altro messaggio altro messaggio altro messaggio Adriana Adriana buongiorno Fabio bentornato grazie grazie diamo il benvenuto anche a Lorenzo questa è la giornata dei benvenuti poi dopo basta è come la giornata del grazie infatti guarda è arrivato un altro messaggio mi è arrivato Lorenzo su Cristal Radio vedi ecco appunto poi basta oggi poi da domani ricominciamo a piantare i pesci in faccia mi manca posso dire che mi manca i pesci in faccia ok dicevamo appunto novità di questa edizione di Good Morning Milano cercheremo anche di stare un po' più sulle informazioni cosa dicono i giornali io poi c'ho una battuta da fare ma la faccio dopo è tutto il week che me la preparo in apertura niente si parla ancora della lezione di bolle in piazza Duomo lezione di bolle in piazza Duomo l'ho un po' criticata nel senso che ho detto editoriale iniziativa moltomente lodevole beh adesso non so neanche chi pagava cosa pagava non ho idea di come funzionasse è bello però che bolle insomma condivida il suo sapere con così tanti ballerini e ballerine quello che mi ha un po' lasciato di stucco o meglio che come al solito un po' mi ha deluso è il fatto della location piazza del Duomo sempre piazza Duomo sempre piazza Duomo tra che secondo me insomma posso dire che piazza Duomo non è una piazza per gli eventi cioè tu immaginati che tu sei turista pagato il biglietto vieni qua vieni a Milano fai la foto al Duomo e davanti trovi una volta il coso del basket una volta i mondiai di sci una volta bolle che fa le capriole una volta ecche cioè io voglio vedere il Duomo non voglio vedere la gente davanti al Duomo e dove le fai ma c'abbiamo tanti di quegli spazi in periferia che possiamo fare cioè dal piazzale dello stadio che è sempre vuoto possiamo riempire di eventi a San Donato a ma mille milioni di cosmi nel Lorenteggio Giambellino sul Vicentino ci sono degli spazi ma non parliamo dei parchi il parco nord il parco Lambro il bosco in città cioè ne abbiamo tanti di quei posti che però boh vabbè diamo subito la linea invece a Luce Verde che ci aspetta subito Luce Verde Gemon Rosa e Viola l'avevo dimenticata anch'io l'avevo dimenticata bella anche il momento della mattina un po' così ci sta posso dire perché 2019 esatto le canzoni di Sanremo che non sono quelle 3-4 che proprio ti martellano poi vengono dimenticate anche se c'è qualcosa di carino perché a Sanremo c'è qualcosa di carino perché si vengono vengono fagucitate mangiate esatto dalla macchina ti martellano quei giorni lì non ne puoi più invece poi dopo vedi c'erano delle belle canzoni infatti ogni tanto scusami velocissimo io c'ho l'enfasi su cui lancia tutto ogni tanto consiglio di andare a rivedere le canzoni in gara dei Sanremo precedenti perché si trovano veramente delle chicche molto interessanti molto diffistato con Sanremo infatti me ne sono accorto notizie cosa dice quali sono le notizie del momento innanzitutto oggi per restare prettamente chiaramente su Milano passeranno le frecce tricolori ci saranno ci sarà uno spettacolo alle 10 e 45 sopra facciamo vedere anche noi facciamo vedere anche noi non è proprio qua dov'è è sulle sedi delle istituzioni lombardi quindi palazzo pirelli palazzo lombardi Milano olioso non c'è forse istituzione San Siro e poi 10 e 45 sopra la zona della regione lombardi stazione centrale Porta Venezia saranno altre si vedranno c'erano delle evoluzioni 10 e 45 quindi frecce tricolore sulle vostre teste esatto e poi piccola nota di colore per noi sicuramente non per il signore citiamo il caso che è uscito ieri di questo signore 68enne plurimultato di Milano da cui arrivano 100 verbali in tre giorni perché è entrato in area B senza saperlo 100 verbali in tre giorni ma in questo caso credo anzi chiediamo al 331 78 535 555 se c'è qualcuno che lo sa che non so un vigile urbano qualcuno ci può aiutare un avvocato credo che se tu prendi una multa lo stesso giorno per lo stesso motivo non la paghi io contestai una multa perché una mi era arrivata l'avevano messa col palmare l'altra me l'avevano messa sullo spazio e poi soprattutto tipo se prendi per la stessa motivazione tipo 3-4 multe di seguito così in un certo senso puoi far capire la buona fede del tuo errore e quindi te le paghi ma te le scontano tipo però qualcuno credo chiedo se c'è un avvocato in ascolto o un vigile urbano o un sindaco qualcuno qualcuno del genere che ci possa aiutare prima mi parlavi invece di Monza usciamo un attimino fuori provincia cosa è successo perché negli ultimi giorni questa notizia vabbè sappiamo benissimo che soprattutto se si abita a Monza in giro ci sono solamente manifesti chiaramente per le elezioni per andare a sostituire il seggio vacante di una morte della morte di Berlusconi la sfida è tra Cappato e Adriano Galiani quindi piuttosto impari diciamo in quel di Monza ok e è notizia degli ultimi giorni che per il primo giorno di scuola Adriano Galiani regalerà degli astucci del Monza un po' del Monza non di Galiani vabbè degli astucci in sua faccia di Galiani non erano male immaginati però Galiani quello fatto da teoteocoli e sì perché magari la gente adesso non me ne voglia Galiani magari pensano sai è stato mercoledì Adams magari passiamo a Fester Adams capito una cosa del genere non dovrebbe essere va bene e niente Marco Cappato allora ha chiesto cosa potesse fare comunque ricordiamo che Marco Cappato un po' di anni fa fece quell'iniziativa in cui si mise su Tinder per dare appuntamento a un comizio in campagna elettorale quindi insomma diciamo che la creatività ha il potere la creatività non manca e soprattutto anche nelle canzoni di Crystal Radio parlo a voi di Milano News in questo momento come dicevo stiamo costruendo la trasmissione anche in queste pause stiamo cercando di capire come riempirle avremo dei contenuti da oggi arriva anche la nuova squadra di Milano News che verrà in supporto poi per la prossima stagione insomma stiamo lavorando per voi un po' di di pazienza vi chiediamo magari ascoltateci su Crystal Radio dove c'è anche la musica poi date un'occhiata ogni tanto qua quando arriva l'ospite ad esempio potrebbe essere interessante comunque tutto ciò che parlo a chi ci segue in diretta ma chiaramente non ha molto senso però comunque perché ci state vedendo appunto in live ma tutti gli spezzoni poi saranno scaricati sui vari social in maniera che si possano rivedere e volendo condividere l'auto travolgono i pedoni in zona l'orienteggio auto si scontrano i travolgono i pedoni quella roba lì mi chassumono è di due giorni fa sì però è di venerdì credo no 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 ice ice sub zero si chiama questo qua vida loca vida loca tanto che sono le 7 e 25 e siamo qua a raccontarvi quello che stiamo a Milano vita loca però insomma che può essere che avete fatto durante il il weekend no cosa hai fatto nel weekend Lorenzo nel weekend sono andato a un festival al giorno di chiusura di un festival perché diciamo ho messo a casirate d'adda in provincia di Bergamo un cucane che festival veniva? gerundium fest si chiama un festival sul gerundio? no è un october fest in miniatura ah ok ho organizzato veramente bene ed è molto dura un mese perfetto ieri ho suggerato la fine dell'estate anche se guarda ad esempio io sabato sera invece sono stato a Cilisello che mi hanno voluto nella giuria di Cilis Got Talent e il sindaco per aprire la manifestazione aveva detto il settembre che inizia questa sequenza di eventi quindi il settembre invece gli eventi arrivano ci sono ci sono invece a Milano c'era anche la festa dell'unità però io ho preferito la festa dell'unità devo dirti la verità svegliere di sera invece sono andato alla festa medievale di Trezzano sul Naviglio sai perché? la troviamo più in linea con i tempi e questa qua c'è la satira politica ti piace? ti è piaciuta? la satira politica complimenti grazie ci mancano gli applausi voglio gli applausi finti quando diciamo o anzi il clash alla Letterman comunque adesso siamo arrivati alla mezz'ora la prima volta già fitta abbiamo mezz'ora di trasmissione siamo arrivati alla prima mezz'ora di trasmissione e come da tradizione due canzoni e poi ovviamente qualche consiglio per gli acquisti come diceva il compianto Maurizio Crystal Radio Good Morning Milano su Milano News anche in diretta video appunto dicevo 7.34 minuti di oggi lunedì 11 settembre e vi ricordo il 331 7853555 a cui potete scriverci il nostro numero di Whatsapp leggiamo in diretta i vostri messaggi e appunto siamo qua per commentare un po' quello che succede nella nostra città nella nostra città metropolitana quindi appunto siamo andati anche fuori in realtà prima parlavamo appunto di Monza del seggio vacante di quello che sta succedendo lassù da Repubblica Milano un po' di notizie sparse sulla prima pagina appunto parlavamo prima di bolle ma poi e qui una notizia che un po' ritorna ne ho due simili il primo è che al pronto soccorso le fate bene i fratelli hanno preteso un gruppo di persone di saltare la fila al pronto soccorso ovviamente hanno detto no ci sono i codici gialli verdi rossi non si salta la fila si fa quello che diciamo noi e qui da quel punto insulta i medici e botte ai poliziotti che fa un po' il paio con un'altra notizia che troviamo sempre su Repubblica Milano che parla invece di un'aggressione su un autobus è stata aggredita una ragazza e poi non contento questo aggressore ha preso abbottigliato in testa un passeggero che ha difeso questa ragazza oltretutto anche insultando e minacciando anche l'autista dell'autobus e quindi si ritorna ancora su quel discorso di quei lavori che diventano ahimè pericolosi quando in realtà sulla carta non dovrebbe adesso va bene tutto ma che guidare un autobus sia un lavoro pericoloso sulla carta insomma mi sembra che dire no anzi un lavoro tranquillo e invece a Milano ahimè non solo a Milano ma in molte città in molte metropoli diventa un lavoro pericoloso e bisogna capire però perché è così guarda io arrivo da un'estate pazzesca di un viaggio pazzesco in quel di Tokyo che abbiamo seguito in quel di Giappone che avete seguito vi ho stressato la vita come non so che cosa lì il rispetto che c'è per chi guida il treno chi guida l'autobus è una cosa pazzesca che mi ha sconvolto quasi sono venerati quasi è assolutamente un tema da sollevare e quindi io non riesco a capire davvero sono tornato un po' scioccato perché forse è anche fin troppo esagerato da quell'altra parte là nel sollevante c'è una prosopopea una dinamica tutta una recitazione anche intorno alla gentilezza che forse è un po' esagerata mi viene da dire però qui si è esagerato al contrario io ti mando a quel paese in un nanosecondo oramai non sto neanche a ragionare se è giusto o non giusto mandare a quel paese il conducente dell'auto se è giusto o non giusto mandare a quel paese il vigile urbano lo faccio tanto chi se ne frega alla fine spostandoci anche da Milano questa roba qua si può tranquillamente traslare su quello che è successo al ragazzo indiano che ha derubato una signora a Roma che a sua volta in quanto criminale eccetera è stato a sua volta preso a calci c'è una legittimazione alla violenza veramente incredibile una sorta di esasperazione delle persone che non riescono a capire bene da dove arrivano qui sarebbe da parlare con qualche sociologo perché se chiede ai politici se chiede ai politici è facile è colpa di quell'altro e quindi non seguiamo quella categoria effettivamente sarebbe da capire è colpa di quell'altro ma la sicurezza come io dico sempre è un tema trasversale a tutte le forze politiche una città più sicura va bene a tutti non a quelli di sinistra non a quelli di destra è vero forse così per tutti sarebbe meglio infatti forse così per tutte le compagini politiche che invece dibattono come fosse un po' Milan e Inter colleghiamoci appunto a proposito di città con Luce Verde Tons and High bring it on questa è la nuova di Tons and High alle 7.42 minuti su Crystal Radio e in diretta anche su Milano All News oggi diamo notizie un po' random a caso anche dei giorni scorsi tanto non c'eravamo in onda quindi anzi commentiamo un po' anche tutto quello che avviene poi lunedì comunque ci sta lunedì si commenta il venerdì sabato e domenica si può fare l'informazione funziona si può fare ho imparato che l'informazione funziona infatti e cosa arriva appunto da dove sei sul giorno sul giorno chiaramente si fa riferimento ai numerosi incidenti stradali del weekend perché come sappiamo nel weekend comunque aumentano purtroppo questi questi avvenimenti e poi invece per stare un po' più sull'incidente stradale è interessante perché c'è stato un incidente stradale venerdì molto grosso in quel del Laurenteggio che ha coinvolto delle persone che erano sul marciapiede cioè una macchina arrivata a tutta la città si è ribaltata carambola e ha fatto su proprio come il bullying ha tirato giù no? ok su quello c'è vi invito ad andare a vedere su facebook un bellissimo post di Simone Lunghi molto polemico ovviamente con questa situazione perché dice non ne posso più di sentire giornali telegiornali che titolano un'auto investe un ragazzo dice quando io sparo con una pistola non scrivete una pistola uccide un ragazzo ma scrivete Simone Lunghi ha sparato a qualcun altro ok invece le auto non è un guidatore no è sempre l'auto come se l'auto fosse la personificazione vive di vita propria e va a tirare giù le persone ecco non è così siamo noi che guidiamo con le auto e ahimè mi ci mettono dentro anch'io spesso ventire le guidiamo un po' insomma non nella migliore delle maniere perché fai quel sorpasso a destra in più tanto chi se ne frega ma si dà dopo l'acceleratina perché quando sta arrivare il giallo tanto chi se ne frega insomma passi su quella ciclabile che sono segnalate per terra tanto non ci passa nessuno in bicicletta e poi invece vediamo e scopriamo camion che tirano sotto ragazze in bicicletta macchine che fanno la carambola sui marciapiedi insomma vuol dire che anche sempre le biciclette guidano no 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 anzi qui c'è un problema anche di utilizzo dei mezzi cioè non sappiamo guidare bene le macchine no non sappiamo guidare bene neanche le biciclette non sappiamo guidare bene neanche i motorini molto probabilmente penso non vogliamo guidare bene spesso niente infatti siamo un po' distratti anche forse dalla nostra bellissima trasmissione che va in onda anche su il dub quindi se siete trascondendo in macchina mi raccomando se siete trascondendo in macchina occhi sul tracciato occhi sulla strada e non fatevi distrarre troppo da noi no se siete in moto invece come diceva il grande Nico Cerini casco ben allacciato e luce accesa sempre anche di giorno scusate dovremmo fare questa questa città allora sembrava che Roma avesse bisogno di un vescovo e è andato a prenderlo alla fine del mondo così almeno pure io dico oppure date una carezza ne sappiamo tutte ne sappiamo tutte aggiungo tra le notizie il fatto che il presidente della rete associativa confcommercio Milano fa il punto più o meno arrivati alla fine dei saldi sostenendo che non ho comprato niente quest'anno che faceva però i saldi quindi effettivamente non e qui insomma c'è anche qui tutto il tema dell'e-commerce banalmente anche la crisi economica di questi tempi e forse il problema possono essere gli stipendi non so magari ne parliamo dopo con il nostro ospite ho fatto dei messaggi dicendo come per non conoscere l'Ugenea non li conosco chiedo perdono quindi compiti a casa di oggi ti ascolti tutta la discussione finita l'Ugenea è poca non è tanto e domani ci dici cosa ne pensi l'Ugenea va bene nel frattempo è arrivato il nostro ospite che è là dietro il vezzo come si dice in questi casi della nostra regia è pronto ad entrare dopo nel prossimo stacco dove c'è anche il telegiornale quindi poi dopo parleremo appunto di ripartenza di lunedì questo è lunedì non abbiamo ancora detto che è anche una data insomma oggi sono 22 anni tu hai già nato? io 24 ah ok che ne so quanti ne anni sono solo da un anno so che sei un bambino quindi non so pensa che mi sposavo per la prima volta quell'anno sì nel frattempo l'ho fatto un'altra volta quindi vedi quando ci si chiama recidiva in questo caso so che hai una notizia da leggerci non c'entra molto con Milano poi non si può non leggere però magari c'è qualcuno interessato sono svendite queste sono offerte a proposito di saldi a proposito di saldi open avre con la Juventus è in vendita la famiglia Agnelli è pronta a cederne il controllo dà un'occhiata ma solo open da questa notizia al momento vabbè ma adesso sarà riportata da tutti di fatto quindi addio la Superlega ma meno male io qua prendo posizione io qua prendo posizione io ho un grande fan della Superlega non piacendomi il calcio ho un grande fan della Superlega sì svelerebbe come si stava dicendo fuori onda la vera anima del calcio la vera anima del calcio è un mercato è un grande spettacolo nessuno sta a discutere la Formula 1 perché c'è la Renault e non c'è la Subaru nessuno sta a discutere su questo no? sì perché la Renault paga la Subaru no fine l'Italia sarebbe la Superlega perché c'è la Juventus e non la C-Reale perché la C-Reale non l'ha pagata per andare a fare la Superlega però quella volta che ti viene fuori la favola tipo Leicester tu adesso non ne sai no no lo so non fare il fighetta subito Leicester so benissimo fuori quella favola lì ti fa sperare che ci sia ancora è venuta fuori là dove fanno la FA Cup perché la Coppa Italia qui ormai non conta più niente e credo che le squadre di Serie C in Coppa Italia forse non c'è neanche più io sottolineo il fatto comunque che 4 anni fa 5 anni fa non mi ricordo l'Atalanta è arrivata ai quartieri finali di Champions League e in quel caso un minimo di favola bergamasca c'era favola bergamasca mi piace permette lo dicesse quello dei quini i tattici nucleari saremmo lì a cantarlo tutto io non posso dire favola bergamasca mi piace dire la favola bergamasca ma la sto immaginando farcita di bestemmie come la favola bergamasca la vorrei capire un attimino e di pota messi così un po' sugli alberi benissimo comunque diceva appunto il nostro ospite è pronto ad arrivare se avete domande per appunto Filippo Poletti 3317853555 nel frattempo grazie mille a Marilu Marilena che ci scrive bentornato Fabio benvenuto Lorenzo finalmente al mattino è un piacere andare al lavoro beh vedi ecco facciamo anche un'attività sociale aiutiamo la gente ad andare al lavoro siamo posso parlare della satira politica fai satira politica sentiamo siamo la nuova solo il governo aiutare la gente non si danno i soldi ma aiutiamo la gente ad andare al lavoro quindi no salario minimo ma si due che parlano e ti aiutano nel tragitto verso il lavoro come state andando al lavoro dove state andando magari non state andando al lavoro state andando a studiare state andando all'università le università sono già aperte come state andando le università no mi sa che iniziano il 18 perlomeno io inizio il 18 le scuole iniziano domani invece non oggi iniziano domani aspetta dipende dipende ah dipende qualcuno è già oggi qualcuno è già oggi domani però mi sembra che sia la grande sì domani più o meno tutti iniziano domani insomma quindi in bocca al lupo a chi inizierà la scuola nel frattempo appunto allora un po' di musica poi una piccola pausa per il nostro telegiornale poi torniamo qui con Filippo Poletti in diretta su Cristal Radio e Milano All News e sono contento di essere con voi qui alla ripartenza grazie mille grazie mille Filippo perché appunto mi chiamo adottare la ripartenza perché tu tutti i giorni come si dice come si dice una volta tutti i giorni che Dio manda in terra scrivi su LinkedIn di lavoro no? da quanti anni ormai? eh guarda iniziò tutto il 5 maggio del 2017 quindi insomma tanto tempo tanto impegno tanta passione e tantissime persone che ho incontrato che ho conosciuto Fabio una straordinaria opportunità ma soprattutto insomma non è che scrivi e basta scrivi e sei super seguito anche però insomma perché molti ti seguono molti poi ragionano anche sui tuoi spunti che sono sempre spunti molto interessanti perché insomma non sono buttate lì così c'è un grande lavoro anche di ricerca della notizia e di cosa raccontare poi il mondo del lavoro insomma un mondo dove c'è sempre comunque tanto da dire e che è sempre in evoluzione soprattutto ma guarda io ho fatto insomma posso dire adesso ho iniziato a fare il cronista nel 97 e ho parlato ho lavorato per quasi 33 testate insomma ma ho parlato di tante cose a fare il cronista si parla soprattutto ahimè di brutte notizie allora quando io ho deciso di iniziare questo racconto quotidiano ho detto beh parliamo delle buone notizie e peraltro insomma mi ha onorato wiki milano che mi ha indicato tra i loro tra i loro insomma novità di quest'estate tra i loro hall of fame diciamo di milanese allora questo qua certamente mi ha onorato però è stato allo stesso tempo un diciamo come si può dire un alert un avviso cioè mi hanno detto guarda che ti seguiamo e quindi abbi cura di noi è presente ti ricordi l'orsettino mi sembra Paddington come si chiama l'orsettino c'era scritto abbi cura di me di noi insomma ecco e quindi io cerco quotidianamente di avere cura delle altre persone lo vivo come un dono non la piar diceva quello che non doni andrà perduto insomma io cerco di fare questo qua senza polemiche pensando più che agli utili all'utile sociale questa è un po' così la mia missione che mi sono dato la mia proposta di valore mi piace molto Mario Calabresi quest'estate tu parlavi prima delle vacanze anch'io insomma mi sono preso dieci giorni ho letto ho riletto il libro di Calabresi come come mi sembra come si si tiene accese le stelle una cosa così deve essere questo tipo insomma lui parla della prospettiva positiva ecco anch'io io sono per il mezzo pieno invito tutti a unirsi con noi a questa rete del mezzo pieno insomma la cultura delle lamentele è al tempo insomma deve essere deve essere messa a tacere cosa tiene accese le stelle bravo bravissimo che ti ha colpito quest'estate però insomma tante altre sono le notizie che quest'estate ti hanno colpito e che ti hanno fatto raccontare anche di Milano e di milanesi importanti ecco una di queste state Filippo è una è stata guarda qualche giorno fa se non sbaglio il 2 di settembre il premio dato a Giorgio Armani il leone d'oro di vetro di Murano dato dal sindaco di Venezia a Giorgio Armani beh mi ha molto colpito perché è uno stilista che seguo io come tantissimi altri e aggiungo ragazzi non ha mai venduto la sua azienda tanti investitori hanno bussato alla sua porta lui in nome della italianità ma diciamo pure della milanesità anche se lui è di Piacenza insomma comunque non ha mai ceduto alle lusinghe dei soldi è detto una cosa interessantissima perché appunto noi parliamo sempre di milanesità Giorgio Armani che in realtà non è di Milano per niente ma forse incarna proprio il vero milanese che è quello che non nasce necessariamente qui ma qui fa grandi cose ma guarda Giorgio Armani è una persona straordinaria una persona di una semplicità io ho avuto anche l'occasione di incontrarlo in una passata vita andavo spesso per ragioni di lavoro all'assago e lo incontravo alle partite di basso una volta mi avvicinai a lui e appunto era da solo e lo salutai lui mi disse buongiorno e la ringrazio io dico perché maestro mi ringrazio perché qualche volta le persone mi guardano e hanno paura di avvicinarsi di relazionarmi con me invece io sono una persona insomma e lo è una persona di grande semplicità ecco a me piacciono le persone semplici si è grandi nella semplicità e questo è quello che ci insegna Giorgio Armani quindi benvenuto questo premio a lui come appunto leone d'oro di vetro di Murano appunto veramente bello questo non me l'aspettavo posso dire non me l'aspettavo e invece ti chiedo questo domani ne aprono le scuole è un tema sempre molto caldo quello della scuola anche sempre con tante polemiche adesso inizierà il problema sicuramente degli insegnanti che mancano i senti di sostegno che mancano ma non è solo quello e anche a volte è proprio un problema anche di numeri di ragazzi che non hanno le scuole di quartiere più perché sono state chiuse perché c'erano troppo pochi iscritti altre scuole invece con troppi iscritti il mondo del lavoro invece su certe situazioni riesce a trovare delle soluzioni in questo e tu l'hai raccontato proprio questo stato sì allora anzitutto partiamo da una cosa inizia la scuola un tema a me molto molto caldo caro Lorenzo e caro Fabio perché io sono stato un insegnante il mio primo lavoro era insegnare alla scuola media quindi il mondo della scuola mi appartiene anzi direi che mi sento ancora uno di loro uno di quei ragazzi che vedete i ragazzi hanno qualcosa di straordinario ti guardano si entusiasmano e non non riescono a fingere non riescono a mentire questo è il bello di un'aula scolastica ecco inizia una scuola un anno scolastico direi anzitutto con la passione degli insegnanti vedevo oggi dei titoli mancano per esempio nella cronaca di Roma mancano gli insegnanti diciamo anche che ci sono degli insegnanti parliamo anche di questo del mezzo pieno ci sono degli insegnanti che non vedono l'ora di rimboccarsi le maniche certo inizia con un conto salato abbiamo visto l'aumento dei libri l'aumento dei trasporti l'aumento della cancelleria non so qualcuno ha detto il 10% non lo so anch'io sono un genitore due figlie che inizieranno la quinta e la terza superiore sicuramente è un conto salato poi c'è anche qualche bella iniziativa certamente non so i Lions hanno riattivato l'iniziativa dello zaino sospeso poi ce ne sono altre come citavi tu io ne ho citata una quest'estate che ha fatto un milione di visualizzazioni l'iniziativa di di Allianz che cosa ha fatto durante l'estate ha aperto quello che è Allianz for kids insomma questa iniziativa è nata nel 2018 non solo ai ragazzi delle elementari ma anche delle medie cosa hanno fatto i ragazzi delle elementari sono stati accolti nella loro casa la casa Allianz a Milano i ragazzi delle medie nei diversi centri sportivi di Milano insomma direi una bellissima iniziativa ricordiamoci che accanto a dei figli degli studenti ci sono dei genitori che hanno delle esigenze che lavorano e quindi conciliare vita lavorativa e vita vita a scuola dei propri figli non è sempre facile anche perché poi gli orari non collimano mai c'è da andare a parlare con i professori quando tu hai l'accollo importante in ufficio c'è da andare a portarlo dal dottore quando tu però in ufficio hai da fare le chiamate per vendere insomma non è facile guarda su questa Autostrada per l'Italia ha fatto una bellissima iniziativa nazionale quindi che riguarda anche Milano ci ha detto domani domani il 12 di settembre Milano inizia la maggior parte inizia la maggior parte delle scuole ha detto ecco domani ai dipendenti i cui figli iniziano la scuola quindi in prima elementare diamo due ore di permesso io ho trovato una bella iniziativa qualcuno ha polemizzato ma perché dobbiamo polemizzare sempre ragazzi cioè è una bella iniziativa la scuola è importante per i figli e dico io da papà è importante anche condividerla con i figli per cui diciamo così un applauso Autostrada per l'Italia non lavoriamo per Autostrada l'Italia si può fare oggi anche perché te lo ricordi il primo giorno di scuola lo dico da 24 anni quindi magari ho la memoria che è ancora abbastanza fresca ma il primo giorno di scuola con i genitori te lo ricordo ecco sì il problema è che ultimamente quel primo giorno di scuola è dentro la prima settimana perché sono queste cose dove c'è l'adattamento come è che fanno in prima elementare ci metti un mese per iniziare comunque ecco forse quello è un po' esagerato dall'altra parte però è interessante questo e anche altre aziende so che poi hanno dato dei congedi familiari apposta appunto per poter seguire meglio i propri figli Filippo rimani qui con noi stiamo sempre con la radio quindi un po' di musica adesso e poi continuiamo torniamo qui insieme a Filippo Poletti mondo del lavoro se avete domande 331-78-535-55 diciamo parlavamo di scuola di ricominciare la scuola che insomma non è solo per i piccoli bimbi non è solo per gli studenti non è solo per i grandi che iniziano l'università a breve nelle prossime settimane lo è per gli insegnanti da ragazzo ancora giovane diciamo io ci tengo tantissimo ma sindacalista nell'animo a sottolineare l'importanza di professori bravi a cui piace fare quel lavoro che secondo me motivati secondo me è veramente uno dei più bei lavori perché sei perennemente sei immerso nella dinamica di quella situazione quindi riesci a viverla molto più di qualsiasi altra persona che invece crede dovresti essere immerso nel presente in un certo senso tu poi appunto Filippo hai avuto modo di sperimentare questa carriera ma si guarda i ragazzi oggi si dice una parola tra i ragazzi molto giovani si dice sei on fire la dicono tantissimo sei on fire la diceva anche Bruce Springsteen però loro tutti sei on fire sei carico eccetera è bellissimo hanno questa energia questa voglia di fare e io me le ricordo questi occhi ti dirò questi occhi lucidi ti dirò che quando ho finito l'esperienza della scuola quel giorno lì mi misi a piangere con i ragazzi mi viene ancora da commuovermi perché vedi dicevo prima i ragazzi non mentono i ragazzi sono così soprattutto i ragazzi non mentono in classe perché un insegnante che non riesce a tenerli è un insegnante per loro di serie B e insomma lo asfaltano come fossero dei caterpillar quindi insomma benvengano insegnanti appassionati torniamo al lavoro però prima Forionda mi raccontavi di aziende virtuose che fanno cose allora ci sono tante aziende virtuose mi hanno citato il caso di Hans io ne cito un altro milanesissimo cioè il caso di Prismian Prismian è un'azienda milanese che fa cavi e cosa hanno fatto loro hanno detto a proposito di figli sono una zona ponale mi sembra sono proprio fermata della metro esatto loro hanno detto bene le mamme che appunto le donne che diventano mamme hanno 90 giorni di congedo facoltativo attenzione retribuito al 100% e questo si aggiunge ai 5 mesi di appunto maternità obbligatoria anche qui pagata dall'Ipsa l'80% che loro pagano il 100% ci mette i soldi l'azienda stessa ci mette i soldi l'azienda e si dice insomma la maternità è un momento importante noi vogliamo sostenerla quindi io dico benvengano queste iniziative e faccio anche una polemica posso fare questa estate abbiamo visto l'uscita di questo libro del generale Roberto Vannacci ecco a me non piacciono i ritratti a zebra della vita non mi piacciono non mi piace il ritratto o bianco o nero io credo che anche nel nero ci siano così come nel bianco ci sono tantissime sfumature e quindi quello che noto oggi è che i media sono o bianco o nero soprattutto stanno dando tantissimo risalto a tutto quello che non è insomma la famiglia tradizionale ora io cammino tutti i giorni per Milano e non solo e vedo tante famiglie tradizionali allora non vorrei cari amici che la famiglia diventasse il panda dei media quindi sostanza il problema dei media qual è? che già usare la parola famiglia tradizionale basta ti abbiamo incasellato schierato da qualche parte abbiamo deciso che stai là da qualche parte invece di di essere una cosa normale di essere una parola come tante altre che potresti utilizzare attenzione io dico libertà a tutti ma libertà anche e come lo stiamo facendo noi alle belle notizie ai figli alle mamme ai papà racconto di tutti non polarizziamoci da una parte o dall'altra non ti sembra forse che qui proprio il problema siano i media non tanto le famiglie non tanto noi non tanto le persone comuni che possono tranquillamente discutere apertamente di famiglie più o meno allargate più o meno tradizionali più o meno moderne e invece i media tendono sempre a incasellare tutto e io mi chiedo anche ma quali sono i risultati di ascolto io faccio il caso del piccolo Filippo Poletti il piccolo Filippo Poletti fa oltre 3 milioni di visualizzazioni al mese con buone notizie non parlo non come dire non ho toni aggressivi voi parlavate della gentilezza tu parlavi della gentilezza in Giappone ma ben venga la gentilezza abbiamo parlato della gentilezza di Armani non parlo di toni aggressivi non mi piacciono i dibattiti sterili e c'è un sacco di persone che si uniscono a questa rete noi siamo nel paese in cui buonista diventa un insulto cioè essere buoni è un insulto a quel punto capisci che diventa un problema è quel circolo lì che si autoalimenta con benzina e fuoco eh sì perché il fatto che appunto sulla famiglia tradizionale si imidia ma anche da una parte e dall'altra è diventata è diventata una bandierina identitaria di frazioni politiche appunto da tutte e due le parti in maniera totale cioè mi permetto di dire con un valore superiore rispetto a quello che cioè sono ci sono anche tanti altri valori molti hanno chiamato l'effetto Netflix no? quello di dover per forza inserire certi tipi di categorie apposta avulse quasi dalla storia del film o della telefilm in quel caso solo perché dovevi rappresentare una certa idea a quel punto ideologica dovuta da quello che invece poi magari venga invece che venga in altre situazioni è una roba formale non sostanziale è una roba formale ma non sostanziale e che è complicato perché in questo momento qualcuno potrebbe tacciarci di dire che non siamo aperti che non siamo a favore dell'arcobalino quando invece sappiamo benissimo tutt'altro qui anzi a Milano News ne facciamo una bandiera stiamo quasi in conclusione Roberto Filippo scusa un minuto e mezzo tutto tuo ma allora guarda direi che siamo siamo qua e ci prepariamo a vedere a vedere un derby straordinario siamo qua davanti allo stadio sono passato prima mi sono fatto un selfie insomma io sono milanista io tifo per il Milan ecco dico agli amici ai cugini attenzione a non essere troppo sicuri è vero che nel 2023 le avete come dire vinte tutte queste partite però il Milan no si è rinvigorito corre forte ecco Berlusconi direbbe no attaccare 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 io dico al Milan difendere 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 cioè non dimentichiamoci che c'è una difesa e poi dico anche che c'è uno stadio nuovo si parla dello stadio ho visto delle polemiche di Bertolino oddio non più il derby a San Siro ma diciamo così facciamo un derby dove abito io a San Donato Milano mi piacerebbe ecco perché tira l'acqua tira l'acqua alla sua cittadina ecco perché ma mi sa che però mai qua la vedo lunga la vedo lontana e la vedo lunga se ne parla se ne riparla insomma intanto godiamoci questo derby e che vinga appunto il migliore e chissà appunto se poi il prossimo lo vedremo a San Donato oppure sempre qua secondo me io ogni giorno quando apro il giornale quando apro il sito trovo sempre una notizia diversa sullo stadio non capisco però vi dico da abitante di fianco di vicino di casa dello stadio 30-40 anni che ascolto queste notizie sono 40 anni che quello stadio deve muoversi da lì e lì non si muove però c'è una bella notizia che è quella dell'avvicinamento delle olimpiadi è quello lì sì insomma il potere di cinque cerchi la gioia di cinque cerchi anche qui dicono sta nascendo un pala Italia un nuovo palazzetto quindi insomma avremo delle nuove strutture che poi dopo ragazzi bisognerà appunto farle vivere dopo il mondiale quindi le federazioni eccetera eccetera dovranno appunto alimentare anche gli spor minori perché ricordiamoci che non so il pattinaggio artistico bellissimo Valentina Marchè non la nostra milanese è un'ambasciatrice però dobbiamo aiutare questi sport siamo tutti appassionati di pattinaggio artistico bisogna scongiurare l'effetto Torino che Torino bellissimo cioè rilanciato la città ma le strutture sono finite in malora nel giro di un attimo speriamo invece di qua la città è già bella lanciata si rilancia ancora di più la città ma è con un po' un effetto expo che ci ricordiamo ci è piaciuto molto ma chi so brutto le strutture nuove che verranno costruite per fortuna pochissime non ci sarà grande costruzione a Milano rimangono invece una grande testimone che va appunto una grande legacy come si direbbe in modo colto una grande testimone che va appunto alimentata e viva viva lo sport lo sport fa bene fa bene alla testa e appunto e viva i grandi eventi a Milano viva i grandi eventi sempre positivi sempre positivi io aspetto che ritorni anche il giorno d'Italia mi auguro ma so che il sindaco non è molto di queste idee ma ne riparleremo più avanti ne riparleremo Filippo grazie mille della tua Fabio grazie mille della tua presenza grazie e poi diremo che ti ritroveremo spesso e volentieri qui volentierissimo siete degli amici io con gli amici faccio di più di più tutto quello che posso grazie mille allora ancora a Filippo Poletti seguitelo su Linkedin poi dove sei su Instagram ovunque su Linkedin e se lo volete dire all'americana Linkedin 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 e invece noi ci fermiamo perché siamo arrivati in un'altra mezz'ora è già passata un'ora e mezza da quando siamo iniziati però è il primo giorno proprio il primo giorno siete stanchi no 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 è un fire è un fire è un fire allora due canzoni una piccola pausa e poi torniamo subito da voi come dice qualcuno insomma Filippo Poletti ci ha portato un bel po' di temi su cui riflettere potete commentare al 33178535555 tra parentesi prima sai che sono andati in Nirvana poco fa allora ci ha scritto Erika dicendo ed è subito 1991 la scuola non è ancora iniziata c'è MTV e tutto va bene cioè che MTV diventa una roba da nostalgia non l'avevi mai pensato e beh perché ai tempi era il nuovo immagino ormai non c'è neanche più si c'è ma non c'è ha preso mille forme un grande blob che si muove così un po' che cerca di sopravvivere quelle cose che poi alla fine passano di moda o vengono fagocitate da altre e poi vanno sempre ad assumere forme strane voi giovani di oggi non ascoltate guardate MTV noi giovani di oggi beh anche Telegram guarda la cultura del videoclip la cultura del videoclip è morta eh sì morta da me sono tutti uguali infatti adesso sono tutti uguali un po' di sfondo se è musica rap c'è un po' di gnocca in giro che balle e poi ci sono quelli con i testi ah sì perché sostanzialmente il videoclip l'ha trovata per passare nelle radio tv nelle tv radio chissà che magari un giorno anche noi qui su cristal radio potremo mandare magari questo tipo di video chissà vedremo vedremo hai trovato qualcosa di no non ho trovato niente scattabellando ancora perché insomma le notizie nel weekend non è che succede anche di roba effettivamente insomma se non sempre solite brutte notizie che cerchiamo di evitare di leggere insomma c'è anche da dire che sono le 8.45 del mattino sinceramente iniziare la mattinata con le brutte notizie anche no cosa state facendo dove state andando chi avrete incontrato e cosa fate lo potete raccontare in diretta qui con noi al 33178 53555 dicevamo domani aprono la maggior parte delle scuole qualcuno già oggi domani quindi avremo molti ascoltatori che ci ascolteranno dall'auto mentre vanno in aula a seguire le nuove lezioni tra i bambini abbiamo tantissimi piccole fan che ci seguono magari c'è Giorgio Noemi che tu non conosci ma sono delle nostre piccole fan che ci seguono dalla macchina per andare a scuola e quindi noi dobbiamo trovare quel momento in cui mettere le canzoni che gli piacciono a loro prima che scendano dalla macchina e prima che però scendano di casa dobbiamo riuscire a peccarle posso dire che Noemi mi ha sussurrato che le piacerebbe sentire De Gregori alla radio la mattina ci credo poco ma vedremo ci ho provato vedremo chiediamo proprio Noemi te l'ha detto sì credo abbia quattro anni e mezzo una cosa del genere sei anni quest'anno va in prima elementare sei anni De Gregori è commerciale sei già Eschimo sei già Guccini e così capite l'infanzia l'infanzia difficile Bertoli cosa hai tirato fuori l'infanzia difficile è da Benjamin Button di Lorenzo Masieri finirò finirò la mia vita ascoltando Trap molto probabilmente chissà chissà quando ho 24 anni quando ne avrò 70 non so se avete notato che l'ha già detto almeno 40 volte che ha 24 anni fammi sentire vecchio no però per dire che poi chissà cosa quando avrò 60 anni quando tu avrai 60 anni cosa sarà la musica del momento una musica elettronica cacofonica prodotta dai kiwi e dagli arras cosa del genere si c'è uno strumento che si mette dentro la banana la banana suona l'ho visto su LinkedIn ma com'è che ha detto Filippo che si dice di dire non lo so c'è questa diatriba che io non so è come Adobe Adobe diamo invece la linea in questo momento a Miley Cyrus questa si dice così è Miley Cyrus ci sono solo incidenti Fabio solo incidenti ah non c'è lo sento andiamo a luce verde a questo punto cioè guarda ci sono anche qua Fabio il giorno non c'è non c'è la luce verde ah ah non posso riprendere la luce verde non c'è così tanta più nuova di notizie che hanno messo quella dell'IT la alert che è fra una settimana ah lì devo fare una cosa poi con il giornone tu con il giornone però sei a lezione vero? il 19 sì martedì andiamo in diretta anche a mezzogiorno voglio fare l'attesa del messaggero in diretta dall'una ecco 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 ma ti viene fuori scritto test eh commentiamo test se arriva non arriva metto qua quattro cellulari e vediamo se arriva su tutti qui la metto qua così vediamo vediamo poi ho già collegamento con un amico della protezione civile che ci spiega come funziona ok quando questo? il 19 quindi e io sento il tipo della regione per il 18 sì ok e quindi domani Carubini l'hai sentito vero? sì sì ok 8 e un quarto magari sentiamo oggi sì 8 e un quarto deve entrare 8 e mezza deve entrare 8 e mezza anzi 8 e 36 diventare l'ospite e allora diciamo allora diciamo 8 e mezza non 8 e un quarto e non 8 e mezza rischia che se poi arrivano però no 8 e 20 8 e 20 diciamo e spieghiamo proprio che 8 e 20 non prima non dopo poi vediamo adesso cercheranno di capire se un ostacista c'era 8 e mezza non sarebbe male 8 e un quarto magari gli togli i conti sì sì allora che ora finiscono adesso alle due so che Irene arriva da Bergamo quindi già è difficile non ci arrivare a quest'ora però magari Angelo oppure magari Cristina magari poi faccio supporto 40 secondi da che ora stacchiamo 57 giusto allora 56 e 56 56 54 e 15 quindi abbiamo adesso due tappetini poi canzone e poi in realtà sigla finale che non ho cazzo scaricato ne volevo mettere dentro le music ecco va beh adesso Miley Cyrus Jaded 8 e 50 mi viene a dire 7 e 50 perché non sono abituato ormai ad essere così proiettato verso le ore 9 che appunto è l'ora in cui chiuderemo siamo quasi appunto arrivati alla fine ma insomma qualcosa ancora abbiamo per darvi soprattutto poi dopo vi spieghiamo tutti l'appuntamento domani gli ospiti della settimana abbiamo tutti tutti i giorni ospiti al momento più o meno più o meno domani e dopo ve li riusciamo a dare sicuro ma soprattutto arriveranno e quindi tenetevi forte anche diciamo la parte comica della trasmissione perché non siamo già abbastanza infatti abbiamo costruito quest'estate dei personaggi che arriveranno ospiti così nelle prossime puntate dateci ancora qualche giorno di assestamento ma poi veramente le notifiche novità saranno veramente tante e speriamo di fare cosa gradita appunto a tutti voi che ci ascoltate vi ricordo sempre lo devo ripetere 3317853555 il numero di whatsapp vi deve entrare nella testa e mai più uscire e anzi usatelo anche scriveteci raccontateci un po' quello che state facendo voi dove andate cosa fate chi siete ditecelo appunto al 3317853555 così che insomma tu commetti le immagini colui che sta ascoltando o con lei che sta ascoltando in questo momento noi due su viale monza su viale monza su viale monza in coda in coda in macchina quindi vedi anche vedi invece ciò sul tram vedi me lo immagino sul tram me lo immagino sul tram che sta giocando qualcosa sul cellulare ma intanto sotto c'è la app aperta e quindi ascolta questa radio vedi è così così insomma ognuno bello pensare a questa roba qua mi dico una roba da giovane mi manda in trip ti manda in trip mi fa viaggiare mi fa volare mi fa volare mi fa volare mamma mia cosa abbiamo tirato fuori infatti infatti tra parentesi quest'estate ho visto tantissimi non ci pagano quindi posso dirlo gruppi di Sivola invece questo gruppo famoso di Human Safari questo youtuber che ha aperto questo alla fine era una compagnia di viaggi così c'è agenzie viaggi alla fine detta in parole proprio è un'agenzia viaggi se glielo dico secondo me mi ammazza però insomma è quell'idea lì e ci sono questi gruppi che si chiama Sivola quindi vedi non solo perché si vuole con l'aereo ma forse perché appunto il viaggio ti fa volare ti fa volare e quella roba lì buongiorno buongiorno a Fabio che ci scrive che lui si è appena svegliato vedi complimenti complimenti a te beato te verrebbe da dire altro locale di Milano che salutiamo tutti i sorrisi che non abbiamo tutti i sorrisi che non abbiamo ma insomma ci proviamo così noi lanciamo l'amo poi qualcuno magari si attaccherà oppure ci attacchiamo noi non è niente c'è da dire che a Milano qualsiasi parola dici secondo me esiste un locale che si chiama così che prinsimi c'è sai che stavo per dire esattamente quello infatti non so non c'è il ma sì Vacia Pirat c'è sicuro me lo ricordo Vacia Pirat c'è non c'è ci sono tutti i locali ci sono è difficile non fare pubblicità occulta è difficile parlare ditemi sì c'è il bar basso il bar alto da qualche volta c'era il bar alto avevano scritto su un bar per fare il conto del bar basso insomma i barboni ci sono tutti non credo no ci sono ci sono allora guarda se non esiste un bar che c'era barboni a Milano lo apro io lo apro io sicuramente ma i giochi di parole fatti fatti con i bar sono veramente la cosa più fai anzi lo chiami barboni e metti solo dei boni a fare i camerieri capito così c'è il doppio gioco di parole mamma mia che brutti i giochi di parole mamma mia sì però scusa tu sei grande fan di Elio le storie tese loro sono i maestri del gioco di parole frassica però ci uniscono anche il no sense che mi piace molto vedere scritto adesso mi viene un gioco di parole da bar sull'insegna non mi va impazzire barbieri barbieri a me vengono bene invece e allora sulle onde di Le Chic Le Freak vi salutiamo vi salutiamo vi ringraziamo per i messaggi che sono arrivati al 331 7853 555 tra cui Fabio ci ricorda che a Milano c'è il barcollo ecco questo era uno dei giochi di parole questa è bella questa è bella poi salutiamo anche Katia che ci scrive e ci rimane male ma come siamo già i saluti buongiorno a tutti grazie alla compagnia grazie a te per averci ascoltato da domani magari proviamo a chiedere una mezz'ora in più basta iniziare una mezz'ora dopo ecco ecco come potrebbe essere la situation comunque siamo arrivati alla fine caro Miamasieri eccoci abbiamo finito la prima puntata della nuova stagione di Good Morning Milano e allora appunto ci salutiamo per oggi ci diamo appuntamento a domani sempre qui dalle 7 alle 9 su Crystal Radio se volete vedere le interviste con i nostri ospiti poi c'è anche Milano News sia in diretta che poi registrata ma che poi comunque troverete più man mano adesso tagliamo cucciamo spostiamo podcastiamo mettiamo youtube ovunque andate dal panettiere aprite la micchetta dentro tac ti trovi l'intervista di Crystal Radio capito tac così scusami mi è venuta in mente una scena di Paolo Villaggio te ne raccontiamo domani masieri grazie come è andata prima puntata tutto bene tutto bene un po' farlo riesci a rimanere sveglio fino alla porta o dormi prima di raggiungere la porta dello studio oggi mi sento sulla sedia della regia che è quella più comoda mi appisolo e allora grazie davvero a tutti quanti che avete seguito grazie Lorenzo Masieri per le notizie politiche tecniche milanesi grazie a Filippo Poletti che ci ha raggiunto oggi qui grazie all'ufficio programmazione di Crystal Radio per tutta la musica bella e tutto il supporto che ci dà noi come dicevo ci vediamo domani sempre qui dalle 7 alle 9 su Crystal Radio con Good Morning Milano ciao 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 e bene e ciao anche a voi allora potete rivedere poi i vari pezzi poi dateci insomma un attimo stiamo capendo come funzionano tutti i vari tastini ci metteremo un po' va bene grazie a tutti ciao grazie a tutti grazie a tutti